Costruire una power bank con delle vecchie batterie ricavate magari da dei tablet ormai passati a miglior vita non è una cattiva idea. L'operazione è abbastanza semplice. I passaggi fondamentali sono recuperare le batterie da dei vecchi dispositivi, magari tablet, che hanno delle capacità solitamente maggiori, recuperare dei circuiti per caricare le batterie, magari da vecchi power bank oppure da vecchi caricabatterie, trovare o realizzare un case dove disporre circuiti e batterie, collegare il tutto con dei cavi abbastanza performanti e ritoccare il tutto con della simpatica colla a caldo. In questo video in particolare ho utilizzato due batterie, una da circa 4000 mAh ed una da circa 5000 mAh, quindi in totale realizzerò circa 9000 mAh, che sono più che sufficienti per garantire due belle ricariche ai comuni cellulari. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse initare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. Grazie a tutti. 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 e a tutti. 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 a tutti.